Salve a tutti ragazzi e bentornati su ATGaming qui con voi Yezid Siamo tornati su Hearthstone perchè ho un paio di novità da mostrarvi Dovevano essere annunciati i prezzi della modalità avventura, la maledizione di Naxxramas Ma Mamma Blizzard ha deciso di declinare questa data Quindi non abbiamo ancora i prezzi per la nuova modalità Avevo iniziato a mettere via dei gold però come vedete ne sono rimasti 25 Perchè ho comprato un po' di buste e come al solito non ci ho trovato un cazzo dentro La solita fortuna C'ho anche un paio di missioni ancora da fare che mi permetterebbero di acquistare almeno un'altra busta Però vedrò di completarle prossimamente Il prima possibile magari E la notizia invece importante che vi volevo dare in questo video è una Grazie a quella merda delle buste che ho scartato finora sono finalmente arrivato alle 1600 dust Ora voi non sapete da quanto aspetto questo momento Ho iniziato a mettere la dust 2-3 mesi fa Non gioco tantissimo però comunque giochicchio E per raggiungere le 1600 dust ho dovuto disenchantare 4 adesso poi Per fare tipo dagli 800 ai 1600 Una leggendaria che era la bestia 4 dorate tipo qualcosa del genere 4-5 epiche e sono riuscito ad arrivare ai 1600 Il dilemma adesso è 1 Io già so la risposta più o meno a questa domanda Però la cosa che più mi diciamo mi ferma è un po' il pensiero di quello che potrei fare con queste 1600 dust Avrei già deciso però Boh sono ancora un po' diciamo titubante Allora sicuramente farò una leggendaria Su quello non c'è alcun dubbio Ora il problema è Quale leggendaria crafto? Hmm Bella domanda Allora questo è Cenarius Cenarius è una bellissima leggendaria per il druido Veramente veramente bella L'ho visto poco in giro ultimamente Ma ho visto anche pochi druidi Quindi la cosa è abbastanza giustificata È una bella carta però mi mancano molte altre carte del druido E quindi per il momento no Recrash Recrash secondo me non è proprio una leggendaria adatta allo stile di gioco del Hunter Quindi bocciata a prescindere Archimago Antonidas Antonidas pure è una bella leggendaria Perché ogni volta che lanciate una magia ottenete una palla di fuoco Bella carta sì però dovreste costruirci intorno a un mazzo apposta Non mi piace Tyrion Fordring Scudo divino provocazione E anche un rantolo di morte Equipaggio un brandice 3-5-3 Che è un'arma Tyrion è una bella carta però Volevo giocare un paladin un pochino più aggro Quindi no Tyrion Ci vediamo alla prossima Profeta Velen è una delle peggiori leggendarie Secondo me al momento Raddoppi i danni nelle cure delle due magie Sì è efficace in certi casi però Niente di spettacolare insomma Poi prende praticamente fuorissimo dal meta A parte Amaz che ci si sfonda Alakir per lo sciamano È una bella carta Vedete costa 8 mana in 3-5 Però guardate quello che c'ha Furia del vento Quindi sono 6 danni Carica Attacca subito Scudo divino Quindi neanche crepa E provocazione È una leggendaria abbastanza completa Però anche qui serve un po' di giocare parecchio sciaman Non mi piace più di tanto No Jaraxus Jaraxus per lo stregone Per lo stregone control diciamo Warlock control Landlock Si gioca solo così Con i gigantoni È una bella carta Perché indubbiamente vi dà 15 di salute Magari state per crepare Jaraxus E poi comunque c'ha Potere eroe e il resto Che è veramente sgravo Però non voglio giocare assolutamente Un Warlock control al momento Perché mi mancano tutti Tutti i giganti Grommash Scusate Grommash è una bellissima leggendaria Per il guerriero Se non fosse che per giocare un guerriero Avete bisogno di altre 15 leggendarie Bocciate a prescindere Andiamo adesso sulle leggendarie neutre Allora qui ne vedete alcune Vedete che ho Ragnaros Onyxia Onyxia l'avevo già disincantata Da parecchio tempo fa Niente Nozdormu Assolutamente inutile Perché accorcia il tempo del turno A 15 secondi Veramente non spreco Maligos Ultimamente sta andando di moda Per il Miracle Miracle Rogue Non ho un Miracle Rogue da montare Quindi Maligos no Alix È sempre Handlock Diciamo Control Warrior Altre 20 leggendarie No Grull Bruttissima Neanche la commento Barone Gheddon Due danni a tutti i personaggi Alla fine del turno Ci sta però È un'altra Di quella del Control Warrior Che servono In 85 Poi ci sono le leggendarie Più piccole Allora andiamo Bocca larga Leggendaria carina Perché ti dà un Gnall 2-2 Con provocazione ogni fine turno Però niente di speciale Illidan Non lo crafterai mai È bella l'animazione È bella Però no Gelbin Mecha Torque No per carità Rischi di perdere le partite Già vinte Black Knight Cavaliare Nero È Un'ottima Leggendaria al momento Perché è veramente ottima Però È sempre per quei mazzi Un po' control Un po' così Che non gioco Vado per il Brailless Io L'Elite Tower and Shaftain Fornisce il potere del rock A entrambi i giocatori Non so nemmeno cosa faccia Perché non l'ho mai vista Ma eviterei di craftarla Capitano Pelle Verde È buono In alcuni mazzi Però No Per carità Continuiamo a scalare Aspetta Vi mostro prima Saltiamo volutamente Il 4 mana Allora Perché non trovo Talnos È un 2 Talnos Ah vabbè Milaus Nel turno successivo Le magie dell'avversario Costano 0 mana No Natpagol L'avevo già disincantato Dopo il nerf Talnos Talnos è un'ottima Leggendaria invece Per i Vedete i danni magici E poi vi fa pescare anche una carta 2 mana Ottima Ramingo No A meno che non volete trollare E far crescere a dismisura Qualche Qualche servitore Con il prete Eviterei Meccanista pure Lasciamo perdere È come Gelbin Remukla L'ho visto giocare Un po' all'inizio Proprio all'alba Di Hearthstone Un po' Adesso con lo Zou Non è una carta Che mi piace particolarmente E andiamo qua 4 mana Questo è quello Che avevo pensato Sin dall'inizio Leroy Jenkins Ragazzi 4 mana 6-2 Carica Evoca Si due draghetti Dalla parte dell'avversario Ma lo usate come Finisher È la leggendaria Credo Per la quale ho perso Più partite Da quando gioco Hearthstone Rimanete anche Con un 10 di vita Non lo so Leroy Faceless Sono 12 danni Oppure Leroy Power Overwhelming Del Warlock Sono 10 danni Ci sono una massa Di combo assurde Che potete fare Con questa carta E portarvi A casa Un match Praticamente perso Quindi Il momento Che tutti aspettavamo Un 3 2 1 Leroy Mamma mia Quanto sei bello Allora Abbiamo finalmente Craftato La nostra Terza leggendaria Terza leggendaria Giocabile La vado a inserire Subito Nel mio Zou Questo è il Classico Warlock Aggro In cui Dalle versioni Praticamente Rispetto alle versioni Precedenti Ho tolto La Mani Berserk E ho tolto I due Mortal Coil Per inserire I due Gnome E ho messo Anche un Power Overwhelming Per inserire Leroy Andiamo qua Eccolo qua Adesso Il mazzo Dovrebbe essere Completo So Emozionato Ancora Guardate Senza parole Finalmente Sono riuscito A portarmi a casa Leroy Sudato Con quelle 1600 polveri Racimolate In tre mesi E Nei prossimi Video Andremo A Vedere Un po' Qualche Tattica Qualche combo Cercherò Un attimo Di mostrarvi Come sfruttare Al meglio Il potenziale Di questa Fantastica Carta Direi che Per ora è tutto Quindi Ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ragazzuoli Ciao Ciao Ciao